Ad Avellino in occasione dell'incontro di calcio Avellino Palermo in programma allo stadio Partenio Lombardo sabato 25 novembre alle ore 15 sino al termine della manifestazione sono chiusi al traffico via Naruma nel tratto compreso tra via De Gasperi e Rotatoria di Contrada Moretta, via Zoccolari nel tratto compreso tra via Naruma e via Genovese, l'intero tratto di via Greco e via Feola e via Nazaro nel tratto compreso tra via Greco e via Carpentieritino. Domenica 26 novembre alle ore 15 in programma l'incontro di calcio udinese Napoli allo stadio Friuli di Udine. Per tutti coloro che vorranno assistere all'incontro sono previsti autobus navette per trasportare i tifosi dalla stazione di Udine allo stadio Friuli. Per chi si sposta invece in aereo dall'aeroporto di Venezia è possibile raggiungere in breve tempo lo stadio di Udine percorrendo l'autostrada 4 e l'autostrada 23. Lo stadio è facilmente raggiungibile anche in auto, si trova di fatti molto vicino alla tangenziale e all'autostrada 23. Dall'autostrada 23 infatti bisogna uscire al casello Udine Sud, prendere la tangenziale in direzione nord e da qui l'uscita per lo stadio Friuli. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione.